Menni, ogni volta che escono i bilanci della Fondazione c'è sempre qualcosa che non va? Ma sì, come gli anni scorsi, effettivamente anche il bilancio 2015 che è stato pubblicato qualche settimana fa evidenzia una situazione patrimoniale della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste che ci preoccupa. Quindi al di là dell'azione meritevole che la Fondazione fa ogni anno finanziando opere nel sociale, finanziando associazioni che appunto sono opere buone e giuste, non possiamo nascondere la polvere sotto il tappeto e dobbiamo prendere atto che la gestione finanziaria e patrimoniale negli ultimi dieci anni di questo ente è stata una gestione alquanto deficitaria. Quindi noi abbiamo chiesto anche quest'anno, un'altra volta, che il dottor Paniccia si faccia da parte e che venga affrontato nel modo corretto la gestione della Fondazione Cassa di Risparmio Trieste.